In diretta televisiva su Cilento Channel e sui social, Costabile Di Sessa, giovane imprenditore Giovanni Pisciottano, rappresentante di un'associazione sportiva, hanno presentato insieme al candidato a sindaco del comune di Castellabate, Domenico Di Luccia, idee e progetti per condividerli con i cittadini, carta dei servizi, pista ciclabile e tante altre idee nel terzo incontro programmatico per rilanciare la città verso uno sviluppo sostenibile. Mi piace insomma porre all'attenzione di quanti ci seguono da casa la nostra idea che è quella di mettere a sistema il turismo. Come si fa? Riorganizzando un poco tutto quello che adesso offre il nostro territorio, aggiungendo anche nuove idee e nuove iniziative che si possono sviluppare, però tutte racchiuse in un unico sistema. E tutto questo lo possiamo realizzare attraverso la carta dei servizi, che è una cosa che già è utilizzata in altri posti e che consente al turista in un'unica soluzione di poter avere una prospettiva molto più ampia di quello che il territorio di Castellabate offre. Io andrei a realizzare una pista ciclabile che andrebbe a collegare tutte le frazioni del comune di Castellabate, quindi andare a coinvolgere ogni frazione, andando poi a realizzare in ogni frazione un infopoint e una stazione di bike sharing, dove il turista ha la possibilità di visitare tutto il territorio, spostandosi da una frazione all'altra, mediante questa pista ciclabile, che diciamo io l'ho messa su carta, sono 30 chilometri che si possono realizzare e il turista potrebbe percorrere o in bici, quindi come pista ciclabile, ma anche o facendo un percorso di runner, quindi correre, oppure proprio una passeggiata. E vi invito a un prossimo appuntamento che sicuramente faremo su altre tematiche, come giustamente dicevi tu Raffella, di approfondimento per conoscere le vostre idee e quindi vi invito nuovamente a fare conoscere a me personalmente, al gruppo di amici che mi circonda, le vostre idee, le idee che ognuno di voi deve mettere in piedi per fare di Castellabate effettivamente una nuova realtà territoriale proiettata verso il futuro, dove al centro, e lo ribadisco con convinzione, vi sono i giovani e lo sviluppo sostenibile del territorio e lo sviluppo turistico fatto di programmazione e di pianificazione. Vi ricordo ancora e vi do appuntamento a una nuova iniziativa che metteremo in campo di qui a breve, partendo dalla frazione Lago. Intraprenderemo le campagne di ascolto del territorio, avremo nel limite del rispetto delle regole legate alla pandemia, avremo la possibilità di incontrarci personalmente, vi parlerò delle nostre idee, delle idee che stiamo portando avanti con convinzione e sicuramente vorrò ascoltare le vostre idee per fare in modo che insieme possiamo costruire un programma convincente, un programma credibile che getterà le basi ad una nuova avventura politica.